Inutile negarlo, la crisi morda ancora e trovare un lavoro stabile è difficile. Sono queste le vere piaghe del territorio. E già nel report effettuato dalla nostra emittente televisiva il 27 gennaio scorso lanciavamo un dato impressionante. Quasi mille famiglie nella sola riviera dei Cedri chiedono mensilmente assistenza alle Caritas o alle associazioni di volontariato. E dato ancora più preoccupante tra i soli comuni di Praia Mare e Tortora sono ben tre le associazioni impegnate nella distribuzione dei pacchi alimentari. E le amministrazioni dall'assessorata alle politiche sociali del comune di Tortora partono a nuova iniziativa, quella di un vero e proprio osservatorio sulla povertà che avrà il compito di gestire situazioni difficili e di dare assistenza laddove il disagio esiste. Perché non bisogna dimenticare che molte volte il disagio è stato sfruttato tanto da chi lo ha e tanto da chi tende la mano. Di qui l'iniziativa di Anna Fondacaro. Prima la mappatura dei bisogni, poi l'osservatorio e quindi la programmazione degli aiuti. Stiamo finalmente lavorando alla mappatura dei bisogni. Questa analisi ci permetterà poi di rilevare appunto quelli che sono i bisogni reali della popolazione così da iniziare ad offrire dei servizi che siano adeguati. Successivamente vedremo di realizzare un vero e proprio osservatorio sulla povertà. Sono decisamente aumentate le domande di assistenza da parte soprattutto di anziani. Resta sempre problematica la questione dell'occupazione giovanile. In questo senso stiamo vedendo di reperire quelli che sono i fondi regionali.